La nostra ambasciata è stata apprisa. Sei degli ostaggi che sono usciti da una porta sul retro. Devi aiutarmi a realizzare un falso film. Ti serve un copione, ti serve un produttore. Io volo a Teheran e torniamo tutti indietro come una troupe. Grande. Hai 72 ore per tirarli fuori. È il mio lavoro e non ho mai abbandonato nessuno. Sanno chi sono e che sono nascosti dai canadesi. È finita, Tony. Giriamo questo film. Argo. Da giovedì 8 novembre al Cideme. Grazie.